Il mio calcio show è offerto da... Devi per forza fare un regalo a tuo cognato che ti sta sul gozzo? Tua suocera compie 70 anni e ne ha passati 40 a rovinarti la vita? Fai un regalo veramente bastardo! Regalagli il TomTom Briatore! Il TomTom Briatore! Il primo navigatore satellitare che sbaglia apposta! Gira a sinistra! Il TomTom Briatore! Ciao ciao! Il TomTom Briatore!